Extra comunitari irregolari sgomberati in località Borgo Gromola, a Capaccio Pestum. Questa mattina i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, congiuntamente agli agenti della Polizia Municipale, hanno sgomberato un vecchio edificio nei pressi dell'ex Bufalara, adibito ad alloggio da parte di tre marocchini, uno dei quali già colpito da provvedimento di espulsione. I militari dell'arma e i vigili urbani hanno provveduto all'identificazione dei tre magrebbini, che vivevano in carenti condizioni igienico-sanitarie. Sono in corso gli accertamenti anche per verificare se i tre extra comunitari versassero un canone di locazione al proprietario dell'immobile, che non risulterebbe abbandonato come invece è sembrato all'arrivo delle forze dell'ordine.